Per ora la riabilitazione formale di Giuseppe Conte come presidente del Movimento 5 Stelle deve aspettare. Il Tribunale di Napoli ha infatti rigettato l'istanza grillina per revocare l'ordinanza che aveva sospeso lo statuto e la nomina dell'ex premier come leader dei 5 Stelle. Nel dire no alla richiesta il giudice Francesco Paolo Feo ha quindi fissato per il prossimo 5 aprile l'udienza nel merito. Secondo Lorenzo Borré, legale dei tre iscritti al Movimento che presentarono il ricorso contro l'elezione di Conte e contro lo statuto, i giudici confermano che è illegittima l'elezione di Conte alla Presidenza del Movimento. Dietro lo stop dello scorso 7 febbraio da parte del Tribunale di Napoli c'erano anche una serie di presunti vizi procedurali, primo tra tutti l'esclusione dalla votazione di tutti gli iscritti da meno di sei mesi. L'istanza in esame, spiegano i giudici, si fonda sul regolamento dell'8 novembre del 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell'adozione delle delibere impugnate. Ma questo documento, secondo il Tribunale, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio, perché chi propone l'istanza ne sarebbe venuto a conoscenza solo dopo la pronuncia dell'ordinanza di sospensione. Intanto, giovedì 10 marzo, sulla piattaforma telematica SkyVot è stata convocata l'Assemblea degli Iscritti Grillini per ripetere la votazione sullo statuto. Nella stessa consultazione si chiede agli iscritti di far accedere il Movimento ai benefici previsti dalla legge del 2 per 1000, iscrivendo così di fatto il Movimento 5 Stelle al registro dei partiti.